Facciamo qualche piccolo cenno sul bonus smart working. Che cos'è? Il bonus smart working è un'estensione sostanzialmente dei fringe benefit aziendali. I lavoratori infatti che svolgono da casa il lavoro hanno la necessità molto spesso di dover acquistare sedie, scrivanie, poltroni o lampade o computer o stampanti che sono volte a facilitare il lavoro che faranno da casa. I fringe benefit possono essere messe a disposizione dei singoli lavoratori per opzioni che sono operazioni che sono strettamente connesse al lavoro o in linea generale possono anche essere accessibili alla famiglia del lavoratore. Ad esempio l'auto aziendale o la casa in offitto se vengono erogati dal datore di lavoro al lavoratore come fringe benefit possono essere anche utilizzati dalla famiglia stessa. Se con il lavoro tradizionale i fringe benefit erano ad esempio il telefono aziendale, buoni pasto o l'auto aziendale, adesso con la diffusione dello smart working rientrano tra i fringe benefit anche le scrivanie, i computer, le sedie o strumenti tecnologici che servono per lavorare. Il bonus smart working prevede l'acquisto da parte dell'azienda di strumentazione tecnologica oppure complementi di arredo che serviranno a svolgere il lavoro a casa però attenzione perché l'erogazione rimane una scelta prettamente aziendale. Infatti il datore di lavoro può scegliere se erogare o meno questi servizi e questi beni al dipendente e si tratta di un bonus che prevede un'agevolazione fiscale per i beni che rientrano nella cifra di 516,46 euro. Questo non toglie che le imprese possono decidere comunque di aumentare la soglia erogabile al dipendente però oltre quella cifra interviene poi la tassazione. Attenzione perché il dipendente non può richiedere direttamente questo tipo di bonus ma come dicevamo prima fa parte del welfare aziendale e delle politiche aziendali che possono scegliere di concedere questo bonus o meno.